Ciao ragazzi, oggi faremo una challenge, lo mangi allo scarti, vedete già la sia appendata? Si, la vedete? Si, ok. E oggi le faremo provare 5 cibi disgustosi, ma alcuni disgustosi e alcuni forse no. Perciò iniziamo subito col video. Grazie, guardate che ho preso. Si vede? Si, si vede. Alessia, che fai? La mangi allo scarti? Allo scarti? Peccato. Che cos'era? Eh, non so. E' formaggino. Wow, perché? Devo mangiare il formaggino. Guardate ragazzi. Vedete? Si vede che è macca? Si. Si, ti vede, ti vede. Alessia, la mangi allo scarti? Lo mangio. Qua volta mangi, la mangi? Dammi. Sì, aspetta, guardate la carta. La pasta gruda. Ti vedi? Ti vedi? Ti ha potuto mangiare. Come la mangio? Ti ha, come la mangio? Come la mangio? Con la bocca. Ragazzi, secondo me staremo qui a vedere per almeno 5 minuti. No, eh, come la mangio? Mangala, lo sapevo che l'avessi mangiato. Ma come si mangia? È cruda. Ma la devo mangiare veramente? Sì. Non ci spessa. Grande salute. Grande salute. Grande giove. Non riesco a spessare. Mamma, mamma. Come faccio? Dai il pugno. Che? Faccio io? Sì. Non lo avessi. Non lo avessi. Vabbè. Come si mangia qua? Aspetta, fammi fare a me. Un po' grande. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, 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 vieni, vieni. Prendi un pezzettino e mangi. Ora prendi un pezzettino e mangi. Già l'ho mangiato! E non l'abbiamo mai. Non l'abbiamo visto. Già, no! Povera Alessia, non lo invidio. Vado, lo devo mangiare veramente. Eh. Ma si mangia la vostra giuda? No, veramente. Se sentite delle voci Alessia sta parlando con mio padre. Non riesco a buttarla giù, no. Vai, vai, mangia, mangia. No. Vai. Un po' d'acqua? No. Non la vengo. Ce l'hai in bocca? Sì. Non riesco a buttarla giù. Stiamo un po' fin dopo domani. Passa al terzo, va. Vabbè ragazzi, passiamo al terzo. nel frattempo che Alessia è in gola. C'è la mamma. Papà. Non lo vuoi. Non lo vuoi. Vabbè, tanto Alessia già l'ha mangiata. Perché adesso è il turno. Hai visto? No. Meglio. Adesso guardate qua. Bam 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 bam. Si vede? Si vede. E adesso. Alessia. La mangi o lo scarti? La mangi. Sei. Vai, mangia, mangia. Cos'è? Si, però tu lo vuoi fare veramente. Che cos'è? Lo scatogliai molto presto. No, no, è sale. Se è sale, no. Che cos'è? Dove sta? Il cappello. Che cos'è? Lo fai. Cos'è? Mangialo. Ormai non ti vuoi più. Che cos'è? Nico, che cos'è? Non vuoi. Mangia. Ma che cos'è? Non vuoi? No, devo guardare chi usa. Vai. Ma il cappello. No, è il cappello. Cos'è? Metti in bocca la mano. No, che cos'è? Il sale. Si. No, vabbè. Più poco. Un pezzo ti ho dato. Un pezzo. Che schifo, già l'ho mangiato. Basta. Come già l'ho mangiato? Sta qua. No, l'ho mangiato. Tutto. No. Forse Alessia l'ho mangiata. No, papi no. Come no? No. Un ciso. Allora, Alessia, vai. No. No, papi no. Vabbè. Vediamo un altro. Alessia già l'ho mangiato. Adesso, guardate. Questo c'è questo? Si, lo sono perfetto. Fifo. Lo mangiato a stati. E questa è la signora. Io dico Manfredi. A posto di My Friends. Penso che conoscete la canzone We Are the Angels. Ok, We Are the Angels Manfredi. Però quella fa in My Friends. No, no. Come? No, cos'è? Salve, il pane che ha tu già? No, non vedete perché è molto. No, ma si mangia. Si. Vale, tu lo mani non hai mangiato? Si. Come sta una volta che poi in faccia? Non ti mangio. Mangia così, o così? Non ho mangiato. Tutto. No, che tutto? Metti tutto in bocca. Che tutto, va? Che tutto? Mangia, 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 mangia. E' buono però. E' pane grattugiato. E' pane grattugiato, è normale che è buono. E' buonissimo. Ancora. Basta. E' questa, è l'ultima. Non posso dire che cosa, Massimo non lo posso dire, altavoce, altrimenti Alessia capisce. E questa è la quinta e anche l'ultima cosa che mangia, che mangia lei. Ma cominciamo. Alessia, lo mangi o lo scarti? Lo scarto. Peccato. Ci saremo divertiti. Ci saremo divertiti? Certo, io me lo sarei mangiato. Posso l'avere? Si. Era il caffè. Lo volevi? No. Me lo bevo. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete la parola in su, iscrivetevi e commentate qua sotto nei commenti. E comunque, poi, condividete e noi ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao!